Ho sempre dato molta importanza alla trasparenza e quando ho avuto l'idea di usare Perfex ho pensato che era appunto il medium che si adattava meglio a quello che io volevo esprimere in quanto che il colore che io poso su questa superficie si spande e allo stesso tempo ha la possibilità per chi guarda di penetrarlo e di diventare partecipe allo stesso tempo del mio lavoro e in qualche modo questo è il fine di questa trasparenza che accomuna un po' sia il fluidore che l'artista in uno stesso ambiente, nella stessa finalità. Grazie a tutti!